That's what all the people say. Che gormita vuoi essere? In che gormita vi identificate? Io obscurio, perché sono troppo elgi. Bello! Vabbè, prima di... Difici un po' l'audio con le tizze... E palle... A me l'audio sembrava da bene. La 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 la. Cioè, più che altro non è il problema dell'audio. È il problema dell'eco. Forse qual è il problema? Perchè ho lasciato l'audio della live a c'è. Può essere. Tu toglilo da lì. Io ora non sento eco. Io non sento eco. Vediamo adesso. Vaffanculo era quello. Perchè me l'ho dimenticato di mutare la live. Ah, Macconi. Il solito sbadato. Lo so, lo so. Lo sbadato. Allora, Federico. In stream, il tuo microfono... Quindi ora non toccare più niente su Streamlabs. Avvicinatevi un po' se puoi. Ma poco. E per il resto... Vai, vai. Perchè noi siamo perfetti. Ciao, ci siamo. Cavallo, adesso il feedback. Ci siamo? Ci senti bene? Ha scritto... Ha scritto... E finisce The Story. Credo che funzioni. Credo che funzioni. Ah, grazie. Allora, sentite una cosa. Nel frattempo ora mando su Telegram perché... Perché sì, perché... Questa cosa deve essere detta agli amici di Telegram ASAP. Allora, considerando che tra una ventina di minuti Mr. Andrea Perisi se ne va... Ma da meno perché il Pullman parte alle nove e mezza, quindi dovrò essere lì cinque minuti prima. Un quarto d'ora? Eh... Sì, un quarto d'ora ci sono. Ok. Allora, in questo quarto d'ora voterà solo Andrea Perisi e io e Federico e Macconi andremo a riprendere tutti i nomi. Ah. Easy. Sì? Sì, sì. È normale, dai, perché se... Ora, tutti i nomi non te li fai, è impossibile, però la maggior parte penso di sì. Guarda, chat, votiamo i Vrester, WWE e i Ws, per il semplice fatto che né Andrea né Federico sanno roba di New Japan, di TNA, quindi... Insomma, mi sembra giusto. Allora, primo voto e primo nome... Prima, scusa di ricominciare, tutto perfetto, audio, non si sente più topi... Sembrerebbe di sì, sembrerebbe di sì adesso, dai. Vabbè, andiamo, dai. Allora, il primo Vrester che tu mi voti adesso, Andrea Perisi, è niente meno che Braun Strowman. Braun Strowman. Allora, prima o dopo che gli morissero le ginocchia? Generale. Buonasera, cretino. Braun Strowman si prende un onestissimo 6,5, perché come Big Man è molto onesto, anzi facciamo anche un 7. Si prende un 7 perché è un onestissimo Big Man, però purtroppo le ginocchia ormai ce l'ha un po' distrutte. Andrebbero oleate un minimo. Sì, è vero. Lubrificate. Madonna, addirittura lubrificate, non lo so io. Chiamate Rakel. Va bene, questo l'abbiamo fatto. Buonasera, cretino. Buonasera, buonasera, buonasera. Si sente, è vero? Non è che abbiamo detto una puttanata. Io sentivo tutto nel stream, raga. Aspettate un attimino. Beh, ancora non ci stanno insultando, noi ci siamo sentiti bene. Sì, sì, si sente, si sente. Ok, chat, scusate che abbiamo un po' la paranoia. Ok, un 7, un 7,5. Andrea ha detto 6,5. Mi segno il nome nel fascicolo. Ah, hai alzato? Scusa, non l'avevo capito. Mi segno il nome qui nel fascicolo, perché sennò sbagliamo. E adesso, Andrea, con un nome dell'AW per variare. Ho capito. No, lo diciamo dopo, Federico, perché Andrea ci sta... Adesso facciamo la lista dei nomi. Non credo tutta, ma la maggior parte. Poi Andrea, quando se ne va, se ne va e noi li recuperiamo. Vota PAC. Vai, Andrea, vai, Prisi, vai. PAC, the boss talk. Io ero un marcone, ragazzi, io ero un marcone di Renneville, quando era il campione cruiserweight. Che bello. Il gimmick, tutto dell'incazzoso, dello spocchioso. Che voto gli devi dare? Un 8, PAC. Cioè, c'ha delle cose che non mi piacciono, come il fatto che spesso quando deve salire sulla terza corda boh ci mette quel minuto pieno a stabilizzarsi e tutto. Però ha il look, ha un grandissimo fisico, sembra, nonostante i flip, uno che potrebbe spaccarti il culo. Dai, 8 pieno. Anche 8 più. Un po' più ci piace. E' figo. PAC e tanta roba, eh. Dopo ne parlerò. Adesso però mi fai un voto definito so off. Nick Nemeth. Dolph Ziggler. Dolph Ziggler. Yes. Bah. 7 più per Dolph Ziggler. Non mi ha mai piaciuto troppo. E' onesto. Ho sempre riconosciuto il fatto che sia comunque un ottimo atleta, bla bla bla, uno dei migliori seller dell'era moderna. Però non va oltre un certo limite. Viro. Sopravalutato. Ci può stare assolutamente. Sto prendendo un attimino la lista per non fare doppioni. Ok, questo non è un doppione, quindi possiamo andare. PAC 7 più. Lottatore incredibile, ma prima io inizio al BCC non gli hanno dato fatto fare un cazzo a livello di carriera. Ragazzi, EIW. Non è che c'è molto altro da dire. Ricochet. Ricochet? 6 e mezzo. Ah, è basso, è figo. Vabbè, ma se dobbiamo valutare una media, Ricochet è bravissimo a fare i flip. E comunque, cioè non è solo quello, perché comunque dopo anni in WWE un minimo di selling gli dovrà anche essere stato inculcato. Però, a parte quello, cos'ha Ricochet? È quello che lo mette in un match e fa divertire il pubblico. Però, anche lui, non va oltre un certo limite. Non sa fare un promo per salvare la propria vita. Quando lo toccherà a me, ci troverà a divertirsi comunque. Però, aspetta, io voglio sentire il voto di Macconi a Ricochet. Allora, il problema è che Ricochet è uno di quei wrestling che non è mai riuscito a connettere con me. Quindi, gli do 7 perché sicuramente è un performer straordinario a livello atletico. Però, cioè, lui per me non ha mai trovato una connessione con lui proprio a livello di... Io lo voglio tifare. Quindi, per me 7, 7 e mezzo, ma proprio a cerca di essere il più obiettivo possibile. Perché non è che fa schifo, perché assolutamente no. Però, per me fa schifo, ecco. Ah, poi mi fa troppo ridere, chat, mi fa troppo ridere che da quando non è più in WWE fa stemenate sui social di come non gli abbiano dato la possibilità di parlare, di come adesso farà vedere a tutti quello di cui è capace. Eh, che... insomma, eh. Allora, è vero che... È vero che... Questo lo diremo a fine stream, perché andremo a leggere a fine stream la card di WrestleDream. Perché c'è l'event... c'è il pay-per-view dell'AW domani notte, credo. Quindi, per semplice curiosità andremo a leggere la carta a fine stream. Però, noi dobbiamo andare avanti, come ho detto, perché Andrea Perisi ha i minuti contati, c'è una dozzina di minuti, e quindi andrei con Bronson Reed. Ciao, ti sono entrato, quindi non so se avete detto qualcosa in questi tre secondi. Perché? Ah, giusti... ok, ok. E Bronson Reed ci dà un voto? Ho swishato il cellulare, così mentre stremiamo posso lavarmi i denti e vestirmi. Bronson Reed, va bene. Bronson Reed, ah, finalmente, adesso ragioniamo. Ho visto l'intervista recentissima con Chris Van Vliet di Bronson Reed. Sembra anche una bellissima persona, un bravo guaglione, simpatico, con bei gusti musicali, bei gusti in quanto a cultura pop, cinema, film. Salutava sempre. Ah? Salutava sempre. Vabbè. E anche come performer a me piace un fottio lui, perché è grosso, grasso, però sa fare cose che... Beh, no, che ridi, è vero, è oggettivamente quello che è. È corruzione. Non me l'aspettavo, chat, non me l'aspettavo. Però, nonostante la stazza, fa cose assurde. Lo tsunami, tutte le altre mosse che ha nel repertorio. E non è neanche male al microfono, cioè, fa il suo. Bronson Reed si prende un bel sette e mezzo, secondo me. Si sta, si sta. O mi devi dire quando dobbiamo parlare noi, perché stai a fare una cosa. Posso darti un altro nome nel frattempo, oppure... Eh, guarda, mi stavo iniziando a lavare i denti. Se volete magari dire dei motivi. Leggo un po' la chat, dai. Allora, ragazzi, vedo cretino e cavallo completamente investiti nel votaggio. Quindi vado a recuperarvi tutti i voti che avete dato finora. Allora, Strowman sette e mezzo per cavallo. Brown sette per cretino. Sette più di cavallo per pack. Nick Nemeth sette e mezzo per cretino. Grande work rate, grande selling, sono d'accordo. Nick Nemeth otto per cavallo. Per Ricochet abbiamo un sette e un sei e mezzo cavallo e cretino. Ricordiamo che Ricochet è dieci. Eh, ragazzi, ha lasciato un segno indelebile e negativo. Per molti quel nome, il wrestling web italiano. E poi, Bronson Reed sette per cretino. E Bronson Reed sette più per cavallo. Il voto crescerà dato che è all'inizio del suo push. Beh, all'inizio del suo push si diceva anche l'anno scorso. Adesso guardiamo. Intanto c'è il match con Rollins, che sarà molto molto interessante. E quindi sono dell'idea che le capiremo tanto. Vincerà per me Rollins il match, ma Reed deve assolutamente uscirne bene. Perché hanno un big man capacissimo e non devono buttarlo. Dopo aver fallito, perché hanno fallito con un altro nome. Che tra l'altro, tra poco dirò in lista. Che è in lista. Con Rollins si può prevedere un banger, vero? Perché Rollins farebbe un bel match anche contro questa scatola di robe. Capito? Ok, chat, non andrò a mentire. Mentre sto aspettando il pirisista, vi posso dire una cosa? Vi posso dire due cose, anzi. Noi stiamo a cucinare. Noi stiamo a cucinare perché settimana prossima stiamo ponderando di portarvi un ospite in live. E chi sarà? E chi sarà? Eh, chi sarà? Eh, no, non si dice, non si dice. Lo scoprirete. Se andrà tutto a buon fine. Perché c'è da mettere l'atterisco. Forse un ospite che abbiamo già avuto? Sì. Forse sì. L'abbiamo già avuto. Forse no. Forse sì. Forse no. Forse no. E chi lo sa. E chi lo sa. Stiamo a cucinare. In realtà non è solo un ospite. È più di uno. È un fratello. Oscar! Oscar! Settimana prossima non è lui, ma è comunque lui un ospite che rivedrete. Tranquillo. È in schedule. Allora, allora, Dino, grazie per il re-sub. Sei a due anni di abbonamento, io non so più che dirti. Un fratello. C'è l'emote normale per le sui Skype, perché è stata fatta una cosa tutta al volo, eh? Purtroppo. Eh sì, due anni, sì, due anni, no. Non so, magari hai due anni, Dino, ma non ce l'hai mai detto, può essere. Anche a Bologna in realtà lo stavi nascondendo. Può essere, no, non lo so. Va bene. Andrei per lì. Andrei un altro nome. Naya Jax. Ah, Queen. La mia regina. Siediti sul mio... No, non lo fa. Allora, Naya Jax, se vogliamo essere onesti, si prende un 6,5. Un 6,5, che per lei è buonissimo, per il livello in cui partiva, perché prima del licenziamento Naya Jax sarebbe stata un 4, se non di meno, però adesso è onesta, adesso è onesta, sa lavorare, fa bei match, cioè bei match, indicativo, fa match carini. Rispetto al passato. Sì, rispetto al passato, ovvio, perché se andate a vedere poi quando massacrava la povera Kairi Sane o chiunque le mettessero contro, diciamo che io... Non la fai dal triangolo, con l'ana e il tavolo. My goal! Eh, quello pure. Date un voto al buco di Naya Jax, chat. Ah, ma abbiamo parlato di Ani, ci sta. No, comunque tra poco vedremo. Non hai mai controllato, Linu? Dovresti farlo. Naya pre-triplo 5, Naya post-triplo 7, per cui mi sai che può migliorare. È vero, vero. Ci sta, un bel ragionamento questo. Allora, tieni da un altro? Eh, ma sì, dai. Carmelo Ace. Carmelone. Eh sì. Carmelo Ace, bravi, bravi, bravo al microfono, ottimo prospetto in ring, grandissimo futuro davanti a lui. Buonissima rana da NXT. Tutto sommato, sommando tutti questi valori, gli darei un 7,5 per partire. Miello, è un bel voto, eh. Bel moveset, bel moveset, bella finisher. Sono tutte cose da considerare, bella presentazione, bella team song. Sì, è vero. Non è che c'è molto altro da dire, secondo me. È giusto tutto quello che ha detto il maestro Pirisi. E adesso penso che si voglia prendere una cosetta. Cioè, non lo so, me la devi di lui. Io mi devo muovere con te, lo sai. Vai, andate un po'. Allora andiamo noi. Chat, vi leggiamo. Sei nel mio roster, male 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 per me, si salva i NXT. Io invece sono dell'idea che, come ha detto Andrea, il post-triplo, come ha detto pure cretino, sia di grande livello di Nia Jax. Migliorata veramente tantissimo. Questo vuol dire che non infortuna più gli avversari. Per adesso, calmi. Andiamoci con i piedi di piombo. Però intanto non l'ha fatto. Rispettabile. È anche più in forma, secondo me. Sì, è oggettivamente rimagrita un po'. Sì. Se stasera batte coso diventa 10. Che è chi coso? Ah, Carmelo. È il Reed e il Knight. Ok. Ah, ma dicevi Carmelo, Oscar. Sei nel merav... Eh, male male. Quanto è che è salito? Quattro mesi, cinque mesi? Dai, su. È presto, secondo me. Però gli va dato un voto, non ti apri il mio roster. Otto meno di cavallo, ma il voto salirà di brutto. Ci sta, sette e mezzo per cretino. Mister Pirisi, questo è un voto che ti piacerà, lo sai? Vediamo. Eh, questo è HOMOS. HOMOS. Beh, dai. HOMOS meme a parte. Meme a parte, dai. Meme a parte, HOMOS è un cinque. È un cinque perché? Perché ha fatto quanto? Sei incontri nel meroster, di cui alla fine eri promosso, promosso proprio nel vero senso della parola, ce n'è solo uno. Quello con Seth Rollins, dove lavoro bene. Eh, oddio. Quello con l'Elder non fu male. Sì, non fu male, però per me è diverso da una... Cioè, proprio dire, ok, bravo HOMOS, hai fatto un'ottima prestazione, mi hai dimostrato qualcosa. Il match con l'Elder alla fine è stato quello che è stato. È passato bene, ma non, diciamo, per grandi meriti di HOMOS. E dopo la sconfitta con Rollins, poi non l'abbiamo più visto. Completamente spavento. Sarà perché... Sarà perché non era un prospetto di Triple H per partire, sarà perché adesso ha alternative come Obafemi, però non c'è più bisogno di HOMOS. Completamente un esperimento fallito, quello di cui si tratta. Esatto, esatto. HOMOS, secondo Oscar, è un 4, quindi cattivissimo. Per cretino è un 5, pure per lui col cervello, 69 vuol cuore. Perché 69? Perché sesso. Bene, grazie per il follow. BC Play 22 H, che sta per ore? Non lo so, ma comunque grazie mille per il follow. 6 di Dino, madonna, è anche troppo buono. I nostri, i miei di Federico, ribadisco, li diremo tra poco, perché tra, credo, 5 minuti va via Andrea Perisi. No, in realtà sto uscendo adesso, quindi iniziate a dare i voti per HOMOS, che sono curioso. Ma va bene, il mio voto per HOMOS in realtà è un 5-. Il meno è dato dal fatto che ha avuto più occasioni ed è... ha fallito. Ha fallito in praticamente tutto. Quindi è quello che mi ha fatto rosicare e il meno è per quello, perché per il resto è un gigante normale, quindi è un 5. Purtroppo Strohman è stato sempre meglio di lui. Reid da quando è tornato gli ha preso il posto. Obafemi, come hai detto tu, è tutta un'altra pasta. non voteremo stasera Obafemi, ma verrà votato di sicuro. E quindi, insomma, fai capire tante cose. E ti posso fare un ultimo nome? Oppure no? Eh, dai, te lo faccio velocemente. Mi devi fare Ludwig Kaiser. Ludwig Kaiser? Eh, che cazzo, lui è veramente un pacchetto completo nel suo piccolo. Cioè, ancora non ha fatto... diciamo, non ha ancora vinto nulla di valore, né si è solidificato in maniera importante, però ha tutte le qualità che servono perché al microfono è bravo, ha carisma, sa parlare, sa lottare. Noi l'abbiamo anche visto dal vivo nel match contro Sami Zayn che hanno fatto poi di recente a Raw. Ludwig Kaiser è un 7 più, pieno. sono d'accordo, un bel voto ed è giusto così perché è in rampa di lancio pure lui. Un po' come Carmelo, un po' come altri. È nella midcard, però è comunque in rampa di lancio. Ha fatto vedere di avere da solo tutte le qualità necessarie. Però non ho sentito il voto di Federico Aomos, era quello che mi interessava. Il voto Aomos, Federico. Io gli do 6 perché, ripeto, io ho visto giganti ben più impediti di lui in Federazione. Per quanto si vuole bene The Great Khalil era un tronco e basta. Giant Gonzaga, è ingiudicabile. Gli assi, devo ricordare Giant Gonzaga, non credo che mi debba ricordare Non credo, non credo. No, no, non penso. Cioè, lui per quello che doveva fare poco lo faceva anche bene. Il problema secondo me per lui è sempre stato il booking. che l'ho ammazzato completamente. Perché, chiaro. Secondo me lui, ora, togli il meme, aveva la possibilità di essere un gigante discreto in Federazione. Cioè, quello che lo butti per dare la scena, lo spettacolo, che serve sempre. Sì. Però, non si andrà mai... Sì, è stato un avviso per evo uscire. Anzi, per me, il prossimo ondato dei licenziamenti lui è il prossimo. Concordo. Signori, buon proseguimento di stream. chat, buon godimento di stream e auguro a tutti un buon proseguimento di serata. Buon compleanno, non a te, ma a chi sarà per te. Pirisi, buonasera. Ok. Allora, ne rimasero due. Ne rimasero due. Allora, rifaremo tutti questi nomi ora, dando il nostro voto, tranne Homos, che lo avete appena sentito. A questi ne aggiungiamo Re, e basta. E questa è la stream. Poi leggiamo la card di WrestleDream, ragazzi, per il semplice fatto che per le dieci, sì, per le dieci stacchiamo. Il messaggio che ho mandato su Telegram, sul Twitter, di quello che ha fatto. WrestleDream ha venduto più di un... Allora, ragazzi, chat, vi faccio questa domanda. C'è questo genio che ha fatto questo tweet. WrestleDream ha venduto più biglietti di un certo pay-per-view della WWE. è un pay-per-view abbastanza meme. Secondo voi, quale è stato? Eh, possiamo dire l'anno, era il 2019. Era il 2019. Era il 2019. Comunque, Federico, ribadisco, se puoi alzarti un pochino il microfono, avvicinartelo ancora, ancora un po'. Mi avvicinerò un po' di più. Grazie, grazie. No, ma per il semplice fatto ti si sente comunque, però tocca alzare. Alzo a paretta il microfono mio e vediamo come va. E sborra, e non, vabbè, niente, grazie. Potevo andare a finire solamente in questo modo. Allora, comunque, chat, il pay-per-view in questione è niente meno che il meraviglioso Stomping Grounds. Sì, Stomping Grounds. Che se lo ricorda? C'è capito, ragazzi, Brested Dream ha venduto di più di Stomping Grounds, eh, attenzione. Non ha venduto di più di Brested 2017. Sette, no, no, proprio ha venduto di più. Allora, aspetta, aspetta un secondino. Allora, Oscar, ti voglio fare, ti voglio rispondere in un modo particolare a questa roba del paragonare. vado a prendere, aspetta, su YouTube, ti mando il link e lo metterò anche fissato. Gli Apapi Wrestling, noi siamo gli Apapi Wrestling tranne che su Twitch, ricordatelo. Vi vado a prendere questo spezzone e ve lo fisso. per ammettere che vai a prendere questo spezzone, posso dire una cosa, Oscar, non paragonate l'IW e l'AWB, fratello, è quello che volevo rispondere. Io mi ricordo nel 2009, quando era il 2019, quando c'era NXT e i Dynamics che andavano faccia a faccia, l'AW faceva vedere uno spot dove pigliava per il culo il fatto che noi abbiamo battuto NXT per tot settimane. Che cazzo rimuove successivamente il reso? Che cazzo? È terrificante. No, niente, niente, mi era apparso un messaggio strato. Quindi, non paragonare, però, vorremmo fare tanti sgargiugli e poi Dynamite ha preso solo tanto cazzi da NXT questa settimana. Sì, è andato molto male, dopo andrò a prendere anche i numeri precisi. Sì, sì, Oscar, assolutamente. Ma noi questa cosa l'abbiamo detta da quando è nato questo canale, quindi tre anni e mezzo fa. Noi siamo sempre stati da quella parte del carro, non ci siamo mai smossi e, come abbiamo detto, a più riprese, alla fine stiamo avendo ragione noi. In barba la maggior parte delle persone, quindi... Voglio dire una cosa, sia chiaro. Questo NXT ci aveva Randy Orton, ora, ci ha detto di Dynamite, ci aveva Daniel Bryan, ci aveva John Moxley, ci aveva Chris Jericho... Lo stiamo guardando prima, lo sai. Per quanto Chris Jericho, per quanto Chris Jericho, diciamo, ormai fa più danni che altro agli spettatori, agli numeri di spettatori. Però, quello è un altro discorso. Aveva Randy Orton, quindi diciamo che Randy Orton ha dato quel boost, poi c'era anche se non sbaglio Jay Uso, c'era Bianca Belair e Jade Cargley per quanto possono dare quei boost. Però, vediamo come vanno le prossime settimane perché mi sembra che la prossima settimana per il periodo delle elezioni in America Dynamite e NXT andranno testa a testa. Non lo so, penso di sì, comunque ci saranno dei cambiamenti di orario, di giorno. vedremo se Dave Meltzer continuerà a piangere. Comunque. Allora, NXT sta offrendo un prodotto meglio di Raw e SmackDown assolutamente. Io sono d'accordo più che altro perché guarda, lo dico perché è uscito Sparking Zero in questi giorni. Avete presente il vecchio anziano di Namek che risveglia il potenziale latente di Gohan e Krillin uguale per NXT? Cioè Shawn Michaels che sta riuscendo pian piano a risvegliare il potenziale latente di tanti, tanti wrestler. Quindi sono dell'idea... Tra l'altro in faccia a te, Giacomo. In faccia a te. Che cosa? Oba Family. Cosa? Tony D. In faccia a te. No, ma in faccia a te nulla perché avevo detto che vinceva Tony D. Angelo. Però io godo. Io godo. Comunque. Poi godere. Io sì. Io ho ragione su torso. Fine. No, no. Semmai che puoi godere te sì e io no è giusto. Il resto non credo. Però, sentite, apro quasi il tuo chat. Scusate se i voti li mettiamo un attimo da parte per adesso ma è una parentesi giusta da aprire. vi ha dato fastidio oppure no il fatto che Tony D. Angelo abbia esultato con la bandiera italiana pur non avendo nulla di italiano a parte la gimmick. Vabbè, italo-americano gimmick ci sta. In gimmick. Ma neanche Santino Marella è italiano. È canadese. Santino Marella è canadese infatti. eppure lo vendevano come italiano però nessuno rompeva i coggioni. Sì, è vero. Vabbè, sono epoche diverse secondo me. Da 2007 al 2024 per me sono epoche diverse. Cioè, l'unico che aveva tutto il diritto di portarsi dietro la bandiera italiana era Nunzio. Vabbè, Nunzione è sempre gasato. Grande Nunzio. Che bestia. Allora, sentite una cosa. Quello che vi ho mandato che ho fissato su in chat è uno spezzone di live. Io banno Oscar, basta. No, non lo bannare. Sentite, è uno spezzone fatto in live con io e Andrea Perisi che è appena andato via quando eravamo in live un sabato pomeriggio dove a una certa io ho sbroccato e ho fatto un rent di due minuti quindi neanche troppo lungo sull'AW. Ci siamo detti di ricaricarlo per il meme quindi lo potete trovare a quel link lì. Bene, torniamo sul sul coso. Sui voti. Ecco. Allora, tolto homos non ne so, rivoteremo i nomi fatti finora più tre nomi in più. Allora, Braun Strowman. Lo sai che è Braun Strowman? Io gli spacco un sette e mezzo. Sì, ma perché sì, alla fine al netto delle ginocchia che gli sono esplose con il tempo è sempre stato per me un gigante anche con la Wyatt Family nel 2015 la pecora nera. insomma, già al tempo secondo me c'era del potenziale. Poi si è espresso con l'inizio della new era con il draft nel 2016 che andava a rompere il culo a chiunque. Mi ha casato. Mi ha casato. Ah, Oscar, ovviamente ti sta rispondendo Federico con l'account di Papi Podcast. Precisiamolo perché se no potrebbe essere fischio per fiasco. Va bene, questo ne parliamo un'altra volta. Pertanto, pertanto, c'è da precisare come Braun Strowman adesso non è che abbia tanto da fare. Però intanto la faida con Reed non dico che l'ha vinta però nessuno dei due perché nessuno dei due ne è uscito male e Strowman l'ha vinto grazie a Rollins però comunque adesso lui potrebbe dire oh io una shot contro Gunther la potrei andare a riclamare o comunque possa andare in un match first con Tenders anche perché sarebbe uno sfidante ovviamente di transizione e io Gunther e Strowman lo vorrei vedere. quindi per questo motivo vi dico sette e mezzo perché col tempo è sempre stato forte è sempre stato interessante un gigante molto moderno ma vincerà ha vinto non troppo ma comunque qualcosa ha vinto è scampione universale dai sette e mezzo io ti dico otto perché Homos è uno di quei giganti che dove lo butti lo butti fa bene secondo me Braun Strowman non posso neanche fare maccoli libro quindi perché devo streamare io vabbè tranquillo alle dieci stacchiamo chat non mi preoccupare tranquillo no è che io ti dico otto perché lui è uno di quei giganti che dove lo butti ripeto fa bene se si valuta se si valuta in generale tutta la sua carriera ricordo una partenza di merda nella Wyatt Family nel 2015 però è cresciuto tantissimo come performer Fida con Reigns l'ha praticamente fatto dire ok questo ha del grandissimo potenziale peccato che non è mai stato sfruttato appieno però Nour secondo me è un otto pieno bello grosso d'altronde lui è grosso Oscar tu richiedi un nome a cui puoi dare più di otto perché non ti sei alzato più del sette allora le cose sono due o sei tu troppo severo eh oppure semplicemente il nome non è ancora arrivato vi dico subito che di nomi enormi non li faremo perché siamo solo in due eh ragazzi non c'è gusto però dei nomi comunque interessanti ci sono oltre a quelli che ora stiamo riprendendo i voti allora pack ecco per me pack è un otto pack è uno anzi no un cazzo pack è un otto e mezzo ragazzi perché al netto delle vittorie che magari gli sono un po' mancate ma non è che sia proprio colpa sua eh per me pack di tutti quelli arriva il problema di Tony Khan che gli arriva il giocattolo nuovo e quello vecchio lo butta via sì tipo I don't wanna play with you anymore di di Andy di Toy Story però ragazzi eh da BW tutto 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 assolutamente tutti i wrestler tutta la carriera in generale ehm pack è un otto e mezzo perché è un lottatore incredibile a livello fisico non ha mai e dico mai mai nemmeno una volta eh mostrato una forma fuori dal dal puzzo citazione a Dario Morcia non non voluta questa comunque il punto qual è che è vero che non ha vinto tanto ma per me è un pacchetto completo fatto e finito è in grado di farti la shooting star press il phoenix splash ed è in grado di farti una powerbomb lung blower in jumping tutto con una semplicità mostruosa per farvi capire io adoro questo tipo di wrestler poi che lui a livello di parlato è sempre stato normale non scarso però è sempre stato normale io non ce la faccio però io non ce la faccio non ha vinto tanto anche perché c'erano i periodi in cui in AEW in Inghilterra lui rimaneva praticamente rinchiuso e non riuscivano a portarlo di nuovo negli Stati Uniti quindi per questo motivo io mi sento di dire che Pac merita un 8 e mezzo anche per questo motivo Dino li dà 8 Oscar li dà 7 e mezzo è forte forte sì che è forte comunque se è forte forte lì da 7 e mezzo Oscar mi viene da pensare che forse effettivamente sei un pochino severo con i voti secondo me vai anche io gli do un 8 perché anche di Pac a me manca tantissimo cioè a me mi spiace tanto che non è che mi spiace non sei più in WWE se non andava c'era avuto i suoi motivi non li posso dire nulla perché il suo periodo da campione di episi leggeri è stato grandioso per quanto purtroppo è capitato in quel periodo che nessuno si batteva un cazzo la divisione di episi leggeri lo possiamo dire sì sì posso anche dirvi una cosa inerente a quel regno come è iniziato se non avete mai visto il match contro Rich Swann della Rumble del 2017 recuperatelo molto molto bello ma siete mezzo perché non ha vinto nulla ma è un ragionamento che ci può stare ma secondo me è troppo influente è sbagliato se chiedi a me Oscar è troppo influente secondo me sì perché comunque è sempre qualcosa che esula dal wrestler lì si entra più che altro nel booking certo cioè che poi soprattutto per Pac che Pac sei infortunato poco se non ricordo male in AEW sei infortunato due volte in WWE non mi ricordo ah sì WWE una volta si sviluppe prima di ritornare come Eagles non ricordo male sì si scrociò praticamente si distrusse però comunque in parte di questo molto spesso si parla di booking e lì tra dei pillari con Tony eh lì sì va bene sì può essere influente fino a un certo punto però non più di tanto secondo me certo certo Pac secondo me un bel lotto pieno se lo prende anche lui bene allora adesso andiamo invece su Nick Nemeth quindi Dolph Ziggler che domani ebbene sì il campione del mondo della TNA domani lotterà a Napoli ecco Oscar io qui mi dispiace ma io Ziggy io gli do un 7 anzi forse anche qualcosina in meno un 6 6 e mezzo perché mi dispiace io non sono d'accordo no mi dispiace qui rientra proprio il un po' d'antipatia forse però neanche quello sì Ziggler purtroppo posso anche lì capire la gestione però in certi momenti lui era proprio scazzato come la merda non c'eva proprio voglia di far nulla è vero in parte lo posso capire per la gestione e tutto quanto però in certi punti non ne la facevo più io ho detto basta lei io gli do un po' di più non tanto perché secondo me è un 7 e mezzo Nick Nemeth perché è vero che ha avuto tantissimi momenti in cui sembrava potesse fare il grande salto poi magari gliel'hanno fatto fare ma l'hanno ritirato su con la macchinina del giochino dove prendi il pupazzo alla fiera perché se no cadeva nel vuoto e non cadeva in piedi e si faceva veramente tanto 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 male poi fuori dalla WWE vai in TNA diventi campione del mondo e ve lo posso dire perché io ho visto la sua run in TNA la sto guardando tuttora è diventato campione del mondo con coscienza di causa perché sapevano che cadevano in piedi poteva cadere in piedi infatti è così sta facendo un buon regno Nick Nemeth dal campione TNA quindi anche per questo motivo in WWE sicuramente avrà patito il fatto che nel 2013 quando è diventato campione il grande momento del Money in the Bank incassato nel Raw Poster e sul Mondia 29 è sempre il picco è un picco che lui forse anche in cuor suo sapeva di non poter replicare a livello di emotività a livello di conicità a livello di quello che vi pare quindi è stato il picco della carriera e non è più riuscito ad avvicinarsi ok magari è riuscito a fare roba bella però non credo picco fai da commiz e intendevo proprio quello con quando altre cose belle oltre a quello perché che fu molto bella la fai da con dei mesi nel 2016 anche se non è un po' autosabutato cos'era il periodo post pipe bomb di punk che voleva fare anche lui il pseudorivoluzionario ma ma io comunque il voto comunque non è basso 8 gli ha dato Oscar anche per la duttilità che sia duttile sicuramente non lo mettiamo in dubbio poi ripeto se ne è un'antipatia mia perché mi spiace perché per tanto tempo l'ho visto sempre sbogliato certo e mi dispiace perché è un performer assolutamente più che bravo anzi prima avevo letto grande work rate e grande selling vedo uno come Mark Henry che è stato in federazione per quanti anni e comunque perseverando alla fine è riuscito a raggiungere il suo potenziale con la All of Fame Certo Ziegler secondo me proprio a un certo punto ha proprio gettato la spugna ha detto ok faccio quello che devo fare ogni tanto i match con Rollins la fai da con Miz come campione in NXT o l'alleanza con Drew McIntyre si svegliava dal torpore proprio il resto non lo vedo non lo mai cioè proprio lunghi periodi di apatia ecco va bene Dino gli ha dato 7 quindi lo stesso voto tuo ci sta è certo è molto personale allora procediamo Ricochet Ricochet è un voto molto interessante mi ricordo che Andrea gli ha dato 6 e mezzo io gli do un po' di più ma non tanto di più perché effettivamente i suoi difetti non sono di poco conto lui non è mai riuscito a crescere dal punto di vista del carisma ragazzi della mix skill è sempre rimasto estremamente mediocre per quanto lui sia un wrestler assolutamente capace e a livello di iFlyer è uno dei migliori al mondo perché è uno dei migliori al mondo a livello di iFlying Ricochet poi nel resto è tutto più che opinabile però per me è un 7 Ricochet è un 7 perché comunque è stato in grado di vincere è stato in grado di emozionare è stato in grado di far parlare di sé nel bene e anche nel male il famosissimo match di Osprey e Ricochet in New Japan ha cambiato inevitabilmente il panorama del wrestling a livello speculativo a livello di preferenza a livello di abitudine dei vari show soprattutto nordamericani quindi per questo motivo vi posso dire che a suo modo ha influenzato il wrestling mondiale di Ricochet gli do 7 e non 6 e mezzo anche per questo ma di più no perché come ho detto i suoi difetti sono evidenti e la sua crescita da quel punto di vista non c'è mai stata per me è un male io mi pare ve l'ho detto è un 7 forse ve l'ho detto anche 7 e mezzo perché ripeto lui come me come Russell non ha mai connesso certo però a essere propri obiettivi se vuoi uno che ti fa lo spot della vita che in un ladder match ti fa la sua porca figura chiami lui e vai tranquillo che qualcosa di bello ti tira fuori a prescindere quindi poi che al microfono secondo me non si è mai più ripreso dal seppellimento che Drew gli ha rifilato quella volta però diciamo che lì come performer sul ring aveva il suo perché che a me non piaceva più di tanto è un altro discorso però allora Ricochet quindi 7 adesso è il momento cioè io 7 tu 7 e mezzo adesso andiamo con Bronson Reed non mi ricordo il voto che gli ha dato Andrea mi sembra un 7 e mezzo comunque siamo lì ed è lo stesso voto mio 7 e mezzo per me è un voto uguale a Bram Strowman perché semplicemente lo reputo anche lui un gigante in grado di essere moderno in grado di saper volare in grado di saper fare delle manovre che ti fanno dire porca di quella puttana come fa a farle nonostante la stazza e tutto quanto sì ha vinto poco perché ha vinto in WWE credo solamente un titolo nordamericano e nient'altro però è un 7 e mezzo è in Bronson Reed ah sì giusto credo che riuscirà a prendersi un titolo secundario in questi anni tra il 2025 e il 2026 penso che finalmente riuscirà a prendersi questo benedetto titolo secundario che sia intercontinentale o che sia negli Stati Uniti quindi 7 e mezzo a Bronson Reed che è un ottimo gigante e spero nel banger con Rollins di settimana prossima Oscar ha detto 7 e Federico il tuo voto a Bronson Reed Bronson Reed eh per me è come Bronson ma un 8 perché anche lui e ti dico gli do un 8 perché non pensavo sarebbe riuscito a imporsi così tanto bene nel main roster cioè io io pensavo questo appena arriva nel main roster tempo due settimane e finisce a giobbare come peggio stronzi invece sotto il Triple H ha tirato fuori delle gran belle performance per quanto questo problema qui vai io mi ricordo nell'Elimination Chamber c'era se non sbaglio Drew McIntyre gli arrivava e presente arrivava al mento di Drew McIntyre una roba del genere non mi ricordo chi era cazzo però comunque no non me lo ricordo nemmeno io cioè lui lo facevano sembrare tozzo a bestia purtroppo che un po' si perdeva la minaccia però vabbè però ecco ho tirato sempre delle gran belle performance contro Ivar contro Otis contro Braun Strowman contro tutti eh vabbè ci hanno fatto la faidona delle belle performance quindi mi fa piacere che si sia riuscita a imporre così tanto bene cosa che lo ammetto non non mi sarei mai aspettato non pensavi quindi già solo per questo gli do un 8 siamo stati estremamente coerenti perché abbiamo dato entrambi lo stesso voto a Strowman e Reed nella nostra scala quindi mi sembra più che corretto andare avanti adesso e andare su Naya Jax wow eh allora gli ha dato 6 Andrea me lo ricordo io non gli posso dare 6 perché c'è c'è stato un periodo in cui Naya Jax io i ragazzi la odiavo e il periodo ovviamente è quello re-covid-covid eh era unsafe scarsa eh arrogante eh faceva veramente troppi errori e troppi danni eh e lì era terrificante è stata una delle più grandi sorprese della gestione Triple H ciao come ho detto non ha sbagliato un colpo che cosa vuol dire non ha sbagliato un colpo vuol dire che è stata perfetta no vuol dire che però è riuscita a migliorare in qualsiasi aspetto in tutti gli aspetti è riuscita a migliorare un po' tanto quello non dipende dipende dalle cose però ragazzi Naya Jax prima era un 4 che ora è diventato un 7 e dobbiamo fare la media e la media è 5 e mezzo e la media non può essere assolutamente sufficiente perché ha fatto troppo male prima però è un 6 work in progress può arrivare a una sufficienza generale Naya Jax se continua così ancora 1-2 anni se non migliora ancora di più perché chi lo sa però per adesso per me è un 5 e mezzo purtroppo il passato non si cancella ragazzi poi che abbia vinto abbastanza è vero ma ripetisco non basta per me è un 5 e mezzo avevo dato 7 e sta lavorando molto bene ragazzi ora sì e lei fa cacare può far cacare può far cacare allora qua c'è il presidente a P ciao Andrea come va il viaggio comunque per me Naya Jax allora gli do un 6 perché è vero ha fatto tanto male prima e lo ammetto però diciamo mi sento generoso oggi mi sento molto generoso va bene cazzo ho dato anche un 7-7 e mezzo di cosce vorrà dire che sono generoso no porca puttana direi quindi che io dare un 7 e mezzo di cosce vuol dire proprio che faccio schifo oggi però gli do un 6 perché è vero ho fatto tanto male però da quando è tornata ci sta facendo richiedere piano piano poco poco con tranquillità pur non facendo chissà cosa che non è che sta facendo chissà cosa ragazzi siamo onesti è vero certo sta dimostrando una gran voglia di migliorare e questo lo apprezzo in dubbio in dubbio poi che non sempre questa voglia di questa grande voglia di migliorare si dimostra con match belli è un altro discorso per esempio l'ultimo con Bayley fatto da Bad Blood zomma perché però comunque sto notando un grande impegno e questo l'apprezzo tanto andiamo avanti allora certo direi che possiamo andare con eh beh ora tocca a Carmelo Ace wow Carmelo è particolare io sono sempre stato in trincea con Carmelo Ace in tanti all'inizio NXT dicevano Emma è sopravvalutato Emma fa sempre le stesse cose e quello e quello le loro madri hanno sopravvalutato dai beh ma madonna anche a fa così ti devo dire Carmelo è sempre stato un nome dove io lo vedo una volta due volte tre volte NXT e dico perfetto questo è uno dei volti di NXT dei prossimi due anni e infatti è stato così è stato così grazie a un'ottima storia personale contro i Williams poi il match di Sandy Deliver ha un po' deluso ma non fu brutto però ha comunque un po' deluso ehm NXT ha vinto tanto perché è stato campione nordamericano due volte oltre che campione massimo e WWE ha iniziato questa sua avventura nel main roster in modo piccoliare perché questa serie di incontri con Andrade bellissimi per carità bellissimi però per me dopo 5 match basta cioè ho ancora i postumi della serie di 7 match tra Cesaro e Scimus ragazzi fateli fare anche 5 10 20 match sono tutti belli no comunque mille milioni no comunque un match a stipulazione speciale dovranno buttarlo fuori prima o poi eh spero di sì io non so quanto stanno non mi ricordo se stanno 3 a 2 3 a 3 però un ladder e le night Carmelo e Andrade bella roba diobono una hit cazzo anche perché Carmelo ci muore sulle altezze è uno che è la morte sua cioè gli piace veramente veramente una pacchia quindi che cosa vuol dire quindi guarda sì per carità guarda voglio strafare anche perché oggi mi sento tanto Shawn Michaels Carmelo per me è un 9 è un 9 porca madonna un 9 bello sodo è tanto è no 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 perché lui se lo merita lui se lo merita tutto cioè ma anche ma ragazzi anche solo il fatto che ha tirato uno scappellotto alla pelata di Randy Orton ma cazzo ma vuoi buttarlo via va beh è per gente come Batista no Batista è un 11 non mi devi rompere il cazzo Oscar comunque va bene va bene arriverà anche il momento di Batista non mi preoccupare allora perché ragazzi c'è Carmelo cioè lui è veramente ma anche se dicessi Brombreaker che vota gli darei io a Brombreaker gli darei 9 allora non è in lista nemmeno lui ma tanto poi verrà votato se ci fosse cioè se mi dicessi io darei 9 perché è un figo Carmelo ha dimostrato abbastanza in questi 2-3 anni Carmelo è il futuro Carmelo è uno di quelli che trascinerà la WWE in futuro potrebbe essere a costo di gufarla un nuovo opportunista definitivo come Edge perché lui secondo me proprio quel fattore lì ce l'ha se gli facessero vincere il Money in the Bank potrebbe è vero lui o un Grison Waller lui o un Grison Waller ce l'hanno entrambi insomma Laura da dire noi siamo visci di bastardi che tramite rottatori cioè manca soltanto che guarda secondo me lui può sedurre una general manager minchia non lo so non lo so Maxine Dupri torna a fare la manager questo nuovo è anche dovuto al fatto che dire che ho grandissime aspettative per Carmelo è dire poco quindi vero io sono un filino ecco io sono un filino meno influenzato dal futuro però rimane un voto alto perché il mio è un 8 è un 8 per Carmelo che è un grande talento ha dimostrato come ho detto tantissimo NXT e il mio roster è partito in modo positivo non eccellente come Brown Breaker magari ma positivo assolutamente sì e credo che anche lui avrà entro il 2026 un bel titolo secondario in Bacheca e se non il titolo secondario è un titolo di coppia per il meme perché no d'altro l'ha vinto Baron Corbin con un tag team nato praticamente a caso con Brown Breaker e che funzionava da Dio perché Wolf Dogs funzionavano da Dio insomma perché no 8 ok almost abbiamo già detto prima ora gli ultimi tre nomi tre nomi che Andrea Perisi non voterà a meno che non sia ancora in chat ma non credo e questi nomi allora intanto vi posso di subito dire che uno è un tag team uno è un tag team e poi ce ne sono altri due comunque ho detto una puttanata perché prima c'è da dare il nostro voto ancora Ludwig Kaiser mi sono dimenticato let's go allora Ludwig Kaiser è alto secondo me è un 7,5 ed è il mio stesso voto perché lui ha sia l'abilità sul ring che anche l'impegno nella parte dello scagnozzo del braccio sgherro sgherro del villain sì 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 vero vero lui è figo per questo lui è figo per questo quando è entrato a Bologna alla Unipoll Arena Ludwig ha avuto modo di vederlo dal vivo proprio vicino perché eravamo vicini al ring per fortuna esprimeva lui l'aura di star non superstar top però di stellina sì cazzo lui infatti ce l'ha è un pacchetto completo come ha detto Andrea prima è uno che ha le mix skill ha il carisma ha la delivery a livello tecnico è bravo ha un moveset carino ha tanto a Ludwig Kaiser a livello di coppia con Giovanni Vinci l'Imperium per me era un grandissimo tag team che infatti ha vinto due volte i titoli di coppia NXT roba ne ha fatta oltre a sfiorare tante cinture nel main roster quindi sono dell'idea che si merita un 7 e mezzo che è un bel voto Ludwig Kaiser come ha detto Federico bene ora andiamo con i tre nomi extra il primo nome extra è niente meno che Bailey si 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 role model 8 mi piace perché ragazzi lei come cattiva come ha dato tanto damage control è sempre stato un passo in avanti e tre passi indietro mi spiace è vero è vero no 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 lascia stare no lascia stare poi io poi io allora si si faccio io comunque sentite sentite il punto è questo sto prendendo il telefono non è perché mi sono scordato eh lo so allora il punto è questo Bailey è stata in grado di fare tante cose tra le quali intanto vincere una rumble e fare una grande rotta quando se lo meritava considerando che nel 2021 venne distrutta dalle rebellas sulla rampa di resta 2037 in modo indecoroso quindi per questo motivo ti posso dire con estrema sicurezza e certezza dei miei mezzi di giornalista di wrestling da 4 anni che Bailey è un 8 più ma sei te che stai continuando a mandare la sound si ma ora ho finito ho finito era per fare era solo ragazzi ma avete tolto quello di Alcoga ma siete dei figli di puttana ma mi sa che l'ho fatto io e non me ne sono reso conto sai potrei aver tolto quello perché forse dovevo togliere questo o questo uno dei due o era questo o era questo qui vabbè però qui il problema è che questo qui è molto molto amato da Matteo Feliziani quindi sarebbe triste per lui va bene ora vedremo intanto Oscar gli da 8 e mezzo è un bel voto ci sta bene Bailey GG ti direi che Massi andiamo avanti Andrade bro Andrade lui la prima run NXT è tantissima roba la risalita era un jobber diventato main eventer grazie a Zilina Vega esatto poi per i due in AW facciamo perdere perché non ha fatto nulla praticamente non ha fatto un cazzo tranne il girare attorno a Ric Flair perché stava con Charlotte Flair per l'ultimo match speriamo che questa volta sia davvero l'ultimo che sennò poi diventa per davvero l'ultimo perché ci crepa sul ring Ric Flair no è impossibile è capito quindi mi raccomando Charlotte tienilo rinchiuso nella casa di riposo per favore facci sto favore grazie e ritorno in in WWE abbastanza positivo complessivamente anche lui da un sette e mezzo e io perché per ora in WWE non ha fatto cioè si sta facendo la faida con Carmelo che è tantissima roba però insomma inserito nella stable di Rini Stirio che madonna ancora sta andando avanti no non è parte dell'LW però comunque sta andando ancora avanti con l'LW cazzo basta ah vabbè l'LW in generale sì allora gli do un voto un filino più alto gli do 8 meno il meno perché perché in boh non lo so 6 7 8 anni ho perso il conto ma come fai non aver ancora imparlato imparato bene l'inglese ma è impossibile bro ma fai un corso di edizione un corso con due professioni cioè i soldi non ti mancano uno perché sei il marito della Flair è già qui va bene due perché comunque l'ho lavorato in WWE per anni quando non lavoravi in WWE stavi a fare i book in Messico o in AEW dove non pagano poco quindi insomma penso che tutto lo possa permettere fallo fatti un po' di do lingua zio dai dio buono qualcosa ora rispetto a anni fa almeno ora parlicchia il problema è che appunto parlicchia non parla ragazzi non è che si dice siamo noi però noi non siamo pagati milioni dalla WWE non è che si dice Carmelo you and me another time basta che cazzo sei Giulia NXT lei è comprensibile che non lo parli da dio l'inglese ma te sei un pezzo di merda voglio dire comunque a livello tecnico come Vrester per me Andrade com'è è un grande io adoro il moveset di Andrade mi piace tantissimo mi piace il suo la sua aura il suo look mi piace il fatto che sia comunque cambiata la finisher nel corso degli anni mi piace il fatto della maschera mi piace il fatto del fatto il fatto del fatto lol il fatto che è l'idolo purtroppo è un nome che aveva in AEW che gli è rimasto nella dicitura comunque in WWE si porta dietro della heritage della legacy quindi un'eredità un rimando quello che era in Messico nei Los Ingobernables de Japon con Tetsuya Naito lo stesso Dragoli che ora in WWE e tanta altra gente insomma io Andrade lo adoro lo adoro e spero che possa vincere di più in WWE di quanto non abbia già vinto ovvero un titolo degli Stati Uniti e un titolo NXT perché non mi sembra abbia vinto altro let's go let's go è l'unico modo per farlo 8 meno allora AEW schifo beh di certo non è una grande promotion secondo noi quindi possiamo dirti che siamo più d'accordo bene ma parleremo di AEW adesso perché loro sono un tag team ed è un tag team che doveva arrivare in WWE ma adesso non si sa più se arriveranno o meno sono i Lucia Brothers yes i Lucia Brothers voteremo l'act e singolarmente io perché non credo che Federico sappia tanto di Penta e Rey però l'act di coppia sì qualcosa hai visto non abbastanza vuoi che faccio io non voglio dire cazzate bene allora senti aggiungiamo un tag team WWE almeno così andiamo safe e dopo facciamo votare solo Federico aspettate che lo prendo perché deve venirvi in mente questo sì questi ma bel esotico madonna mi metto un nome veramente bello da farti votare allora i Lucia Brothers 9 e mezzo of wrestlers magnifici top 15 al mondo ha detto Oscar guarda ti prendo prima singolarmente e poi te li prendo insieme pentale sero miedo ex pentagon junior è un otto e mezzo ray fenix che è un wrestler diverso nonostante siano entrambi Lucia d'orra è un otto e mezzo per me hanno lo stesso voto perché sono un po' diversi però secondo me hanno entrambi delle qualità differenti di nu ci sta ci sta perché la differenza secondo me è labile è proprio un gusto soggettivo di moveset di presentazione di tutto quello che vuoi tra i due credo che sicuramente abbia vinto di più penta comunque quindi se proprio vogliamo prendere i dettaglini sì penta è maggiore di fenix per quello come tag team il voto non è otto e mezzo è nove è nove perché hanno alle spalle una quantità di titoli monumentale tra indipendenti scrause e di qualità come magari l'MLW major come la TNA l'AW perché io mi ricordo lo steel cage fatto ad all out 2021 mi sembra contro gli Young Bucks match meraviglioso secondo me uno dei match più belli di coppia mai fatti in AW in AAA Oscar io non so se è quantificabile la quantità di roba che hanno vinto in Messico da AAA si è MLL e via discorrendo in Giappone credo abbiano lottato a più riprese entrambi Pentagon di sicuro quindi sono dei giramondo che hanno fatto di tutto gli manca la WWE spero di vederli in WWE la bella luce underground anche quella la morte loro insomma nove perché sono un tag team eccellente eccellente che possono ambire al massimo dei voti se vengono a conquistare anche la più grande federazione della storia vedremo se ci arriveranno credo di sì perché nonostante la roba del contratto allungato sì o no di Fenix e basta mi sembra potrebbe essere un'idea e poi se il contratto scusate faccio una piccola parentesi no ma hanno allungato il contratto di Fenix Pentagon non era affortunato se Pentagon gli scade il contratto e non rinnova non è che Pentagon va in WWE si fa sei mesi da solo e poi arrivarei e vanno nel main roster ne dubito sì per il memino per il memino sarebbe strano però sarebbe figo allo stesso tempo ora NXT deve arrivare Delta la ragazzona australiana ma abbiamo già parlato nella scorsa stream quindi in caso vi recuperate quella quindi sì nove allora ora vota un tag team Federico storico lo dico è storico della WWE sono lo famer e poi direi che abbiamo finito ragazzi vediamo se vi mandiamo un ride da qualche parte in Penta è sicuro può vincere il titolo mondiale pure Ray sono diversi però dipende dallo stile sicuramente Penta essendo più piazzato ha più possibilità a livello anche di logica ci mancherebbe altro allora Federico ti consegno Babba Ray e Devon Dudley i Dudley Boys nove ragazzi che voto gli posso dare a uno di tag team più che hanno rivoluzionato questo business ragazzi iconici iconici assolutamente loro hanno avuto un'importanza storica non è un 10 perché c'è stato lo split ma non solo c'è bisogno di essere obiettivi anche tecnicamente i ragazzi non erano i fenomeni erano buoni entrambi guarda ti dirò Babba Ray in K&A come campione ha fatto tantissimo ah Bulli Ray certo Bulli Ray ha fatto una madonna come campione in K&A e vabbè la run di ritorno di la 15 è assolutamente sprecata ma a parte quello secondo me c'è per me un no con il tag team non avevo molto a dire no no è un voto giusto è un voto giusto perché come ha detto Oscar ha un'importanza storica enorme lui gli ha dato 8 e mezzo anche quello è un voto che ci può assolutamente stare sono un tag team che ha trasceso diventando epica diventando rivoluzione diventando innovazione grazie anche a TLC ci mancherebbe altro però non solo a quello da ECW ragazzi c'è loro sono un tag team che trasuda ECW trasuda estremo quindi poi l'abbiamo detto Bully Ray in TNA ha fatto una run anche di recente non male nonostante l'età perché c'ha un'età ormai Bully Ray Babba Ray chiamatelo come cazzo vi pare insomma alla fine della fiera sono un tag team a sé stante Hall of Famer punta e basta poi in blank correre e quindi il 9 ci sta bene a votare abbiamo finito mi ho fatto un'ora di voti dopo 10 minuti che non vedrete nel VOD di youtube perché perché no che poi com'è che si fa qua per lo sapete voi cosa per scaricare qui la live da Twitch per esportare o scaricare il VOD te lo dico dopo tranquillo allora intanto signore e signori vi devo dire un'altra cosa è il momento di chiudere la stream come avevamo detto noi ovvero vi leggiamo la card di Wrestle Dream perché c'è il pay per view dell'AW noi non ne parleremo granché e quindi è giusto leggere la card almeno non ce ne frega un cazzo sì però è giusto leggerla perché sono dell'idea che ci siano comunque roba interessante c'è domani notte e quindi perché no e quindi perché no non mi ucciderei non dirla vabbè ma non muori Oscar se ti leggo la card di Wrestle Dream cioè non puoi morire a meno che non ti suicidi te ma non credo ti convenga ti giuro no non lo fa allora c'è un match nel pre-show per il titolo televisivo Ringo Fonor abbiamo Atlantis Junior Brian Cage che culo pensate che roba la main card vedrà dieci incontri pochi no sì pochi eh un cazzo allora iniziamo da la MXM Collection quindi Mansur e Mason Madden sono Massey e Mansuar contro gli Acclaimed questo è strano questo è strano forte altro che esotico è esotico mi fanno ridere però è Massey e Mansuar ancora anche se sono nei W bravi e poi abbiamo Jack Perry contro Katsuyori Shibata per il titolo TNT Darby Allin Brody King che è una faida molto molto lunga personale sono un po' Kevin Owens e Sammy Zane con i relativi paragoni nel senso che sono la versione di Wish però poi dall'altra parte c'è Mark Brisco contro Chris Jericho per il titolo del mondo della Ringo Fonor e Federico secondo te lo vince un titolo mondiale di nuovo Chris Jericho a quest'età? vorrei morire comunque no vabbè se vince forse non lo so guarda Oscar sono d'accordo con questo messaggio al 100% in tutto quello che hai detto poi abbiamo Young Bucks contro Private Party vabbè Adam Page J. White Mariah May contro Willow Nighting per il titolo del mondo femminile Hologram contro Beast Mortals 2 out of 3 falls e poi abbiamo ne mancano due credo aspetta vediamo se ne ho saltato uno no ne mancano due due Will Ospre Ricochet conosco Takeshita per il titolo internazionale 3 way match e il main event può essere che è vincata Takeshita e il main event sarà Brian Danielson John Moxley per il titolo del mondo e i W eh sì e questo è Russell Dream se interessa qualcuno comunque 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 è vero oltre a Oscar vabbè Swerve vediamo se torna Swerve ma più che Swerve vi dico un'ultima cosa potrebbe esserci il debutto di Shelton Benjamin e potrebbe esserci il debutto di Bobby Lashley eh sì Adam Copeland Oscar dicono che i tempi di recupero non li ha ancora raggiunti vediamo se torna qui se torna Full Gear World Sand altri pay per view secondo me non torna Wrestle Dream tornerà più avanti però tornerà è ovvio Art Business 2 anche no e secondo me invece lo vogliono proprio fare l'Art Business 2 tanto LAW che cosa ci potevamo aspettare bene signore e signori abbiamo ufficialmente concluso questa divertentissima stream io voglio ringraziare di cuore Federico Manconi per la regia che è riuscito a mettere a posto in un quarto d'ora che non è non è tanto quindi sei stato bravo alla fine mi ero dimenticato di mutare la live insomma per tenere l'occhio anche un po' la chat però vabbè comunque comunque l'abbiamo fatto allora noi per questa settimana abbiamo ufficialmente finito ci ritroverete in live settimana prossima parleremo di qualcosa cercheremo di portarvi l'ospite come detto ci stiamo lavorando e niente faremo roba faremo le un po' la opinions faremo le vostre hot takes mi raccomando i papi wrestling su instagram faremo il box di nuovo mandate le hot takes così le leggiamo in stream eh avete un'occasione importante sfruttatela e faremo quella di sicuro e cercheremo di portare appunto anche un ospitino bene per oggi è tutto da parte mia una buona notte una buon fine settimana un saluto anche da parte di Andrea un buon sì da parte di Andrea Matteo e Mattia parte dello i papi come sempre oggi non ci possono essere Mattia lo sapevate già dalla scorsa stream e vedremo vabbè Oscar c'è la ricompensa c'è la ricompensa canale Oscar un giorno ti invitiamo sul disco volendo farei farei un ospite speciale speciale molto speciale no l'ospite speciale 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 c'è se il nostro ospite speciale molto speciale no Federico c'è la ricompensa canale c'è la ricompensa canale invito in stream e se la se la riscuoti vieni ecco fatto ok signore e signori un bacione buonanotte e alla prossima e fate i bravi ciao